Allora mi hai scoperto? Sono vent'anni che ha lo stesso orario scolastico. Tutti i giovedì, dalle undici e mezzogiorno. Ora buca. Come stai, professor? Splendidamente. Cosa dicono a scuola? Finché la cosa non interferisce con l'insegnamento dei miei allievi, non è un problema loro. E' strano mi sia venuto a trovare proprio in questo periodo. L'anniversario? Non l'ho dimenticato. Una volta festeggiamamo quello di nozze. Ora questo. Hai ricevuto anche tu la telefonata? Hai risposto? Sono passati cinque anni. Ha diritto anche lui a una seconda opportunità. Quello è il suo posto. Io non l'aiuterò a uscire da lì. Anche Valentina sarebbe d'accordo. Non nominare Valentina. Dico solo che... non fare il suo nome. Non in mia presenza. Un tempo, ogni giovedì, aspettavamo quest'ora per correre a casa e fare l'amore. Perché sei tornata a vivere lì? Senti, io ho bisogno di un favore. E sei l'unico prof di informatica che conosco. Di che si tratta? Di violare un sistema di videosormiglianza. Te la senti? Ok. Ok. Grazie a tutti.